musica 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 allora io però così quasi alla prossima partita ricordamelo che stacco un attimo il programma delegato che mette a reccare quella roba normale allora c'è uno slurto basso basso qua c'è una una trappola no io sono sotto di te esattamente sotto c'è una slurp lì sul balcone prendo piazza trappola io vai c'è gente sotto ok ciao amichi c'è uno sotto di te ok io ho due balestre vieni qua però però ce l'ho ho tutto ho una r è la mia trappola l'ho preso oh 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 damn shot boy oddio l'ho vista in fronte gliel'hai messa what the fuck mia mi sa che sono ammattoni io sono ammattoni viste stanno uno adesso one shot mi stavo divertendo con l'arco con l'arco cosa gli ho fatto 22 parlo cannone bello ho sbagliato ah si perché stavo giocando in duo con Ron io comunque sono l'idea che in duo sono più tryharder di scioche una cifra qua c'è l'urcola vado a prendere dove? qua sopra oh 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 no sei sei yeah baby yeah gete all l torri gemelli scusami basta fare così è carissimo ci ho fatto vedere non lo so no è sopra arrivo sono qua davanti a me sopra le scale davanti a me non so se c'è più gente oh mio dio spara 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 che devi grazie grazie io li stavo baitando good good shit è stata buona statati e prenditi pure le pozzette aha scar uh non l'avevo neanche visto sono passato a fianco considera ok e lì io prendrei mucca comunque da quando hanno fatto questa update è molto più facile perdere i gunfight si ho notato anch'io non c'è più ne parlavo prima con Ron non c'è più skill cioè nel senso hanno fatto in modo che anche c'è chi era bravo ad utilizzare i tasti a cambiare le armi e cambiare adesso è diventato stupido perché è lento come come qualunque altra persona che non sa giocare o che aveva le prime armi cioè come se hanno equilibrato per i per i per i nabi non per chi per chi è bravo esattamente dusty eh let's go anche perché adesso tu se vuoi cambiare un'arma durante un fight 1v1 non puoi non puoi perché se metti la pompa del nonno ci metti tre ore cioè prendi il cecchino ci metti tre ore qualunque altra arma ci metti tre ore ma non è solo quella non si possono fare più i quickscope sì perché devi mirare devi stare fermo mirando no devi aspettare che l'arma allora tu se ora suappi l'arma in miri sembra che ti mira istantaneamente ma tu devi aspettare fino a che lui praticamente estrae l'arma se no il colpo lo spara come se fosse nostro ah ho capito è un'impressione no vabbè allora no cioè non può funzionare così cioè io mo non è cattiveria anzi sto gioco mi piace un sacco eh per carità ci continuo a giocare e tutto il resto ma io spero che in breve tempo due tre settimane lo fixi se no dopo un po' perdi interesse a giocare così cioè io ho switchato da PUBG sì perché era più lento perché era lento PUBG quando lo davo? eh sì materiali come sei messo? eh 300 340 vabbè io 600 250 va benissimo basta due due di farm e ci arrivo a 600 dentro il dibatt centrale quello bianco allora io adesso salto e lancio un noscope con la balestra se lo prendo proleamo insieme il che prima è bellissimo nella mia visuale si è piantato in testa hanno sparato dietro di noi capito? destra destra sud costruzione le vedi? sì sì ma hanno sparato dietro di noi al loot ah dietro dietro di noi io ho sentito ah hanno sparato all'airdrop è in quello blu sta farmando vuoi dimmi quando vuoi sparare vai oddio ora si oh mio dio ma l'hai preso ok l'altro sentando entro e faccio due scale oh io ho fatto un quick con l'arco davvero va di dietro poveraccio ma donna senti ti lascio vuoi la pozzata 50? no mi dò lo slurp ah ok mi faresti un piacere se la puoi portare sì sì e così prendi l'aigra prendi l'aigra 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 lì cazzo fai fai una torre gigante io dico il problema è che ha come base la stessa base e quindi te la buttano giù cade tutto guarda l'unica cosa che si può fare per il portaforte è sparargli subito come uno lo tira non ci sono altri modi per counterarlo se tu vedi che uno lo tira devi sparare subito la base come un pazzo sì perché si sta costruendo cioè e il metallo viene giù subito ma tu pensa se era in legno eh no se era in legno era un breakable hanno tolto il missile guidato sì era un breakable all'inizio perlomeno vedo dove hanno preso il loot qua davanti ho visto lo vedo uno è sotto ho visto anch'io faccio due scale vado di di balestra appena lo vedo mi sei andato giù mi sei andato giù no? what? sta salendo sulla montagna se c'è la R spara con quello che è si sopra la montagna colpito mi ha sparato dalla montagna quella altissima oh Cristo l'ho visto saliamo su sta montagna no? la sinistra continuano a sparare quelli però eh quella sinistra io l'ho presa eh eh io sto salendo ok ti son dietro io quindi MP di una volta ho detto a questo qua sotto oh mio Dio dietro lino gira gira 56 vesti tu dimmi a chi pensi io penso mai c'è un problema di di priorità con quello lì io ho fatto anche un colpo si è buttato sotto di noi il tizio oddio ma lo son visto passare in testa ci sta passando sotto il tizio lo devo busciare il tizio arrivo con te sta salendo su due c'è un altro team pure che mi spara bello un è andato chiuso dentro è chiuso là dentro o merda è chiuso qua eccolo lì senti lo vogliamo far cadere andato non è andato mi ha chiuso con le trappole non potevo spaccare niente né ucciderlo ma 200 e q manca ci avevo pensato non potevo non potevo non potevo Cosa? Ebbè a un certo punto Non hai capito quello che ha fatto Ho visto, ho visto e ti ha chiuso A un certo punto però poi Datti la pozza a 50 In un secondo devo capire dove stanno gli altri Dalun non hai capito quello che ha fatto Cioè si è preso un colpo di pompa E gli ho fatto 9 Cioè da 2 metri? Sì, 9 Ma perché la gente sembra tutta Copperfield Boh non lo so Misdirection Cazzo è Parito Scusami una cosa ma dove è andato L'ho visto che correva ma non si è capito Flash Sembra di giocare in un altro gioco Comunque L'ha capito questo qui che sta nella zona C'è pure uno dietro Ah un altro team Un altro team Non sanno Probabilmente quelli non sanno che ci sei Meglio ancora Un colpo solo era entrato Un colpo solo Sì, sì Guarda sul muro Vorrei farti notare che ha fatto passare un colpo tra il monte e il E il coso, la costruzione Ed è incredibile come cosa Morto dalla zona Eh non ho letto nessun morto però Quindi è sopra di me Interessante Poi subito su a destra eh Eh che palle Un altro che costruisce continuamente i muri Ok allora c'è chi non infonde Mi ha fatto cadere Vabbè Non c'è modo di counterare una situazione del genere Un quarto d'ora per sparare comunque Un'ora Incredibile Un'ora 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 cazzo Un'ora cazzo Per sparare un colpo Ecco Madonna che cazzo stavi facendo Le famose costruzioni blocca testa Ok giù a destra Bravissimo Quello sta lì ti guarda e spara le costruzioni Una cosa per una storia triste proprio Tale sulla destra No non mi prende l'arma Fucking go baby